Questo piatto è stato seguito per l'occasione dai maestri ceramisti della splendida città Umbra di Gualdo Tadino da cui sorgente proviene addirittura l'acqua Rocchetta, un ricordo di grande valore artistico che si aggiunge al ricordo di questa indimenticabile serata, grazie a Rocchetta, acqua della salute e della bellezza. Lo stesso discorso l'hanno detto anche tutti gli altri, quindi complimenti a voi, Rocchetta è un partner che dura negli anni con Miss Italia anche perché i nostri Miss fanno veramente tantissima plin plin, questo lo sappiamo, lo posso dire io. Comunque, consegna del piatto, grazie mille, consegniamo il piatto a loro tre, magari prendilo tu come se no, lo porti per tutte e tre e un applauso ancora, grazie, grazie, prego, 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 allora.